Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un nuovo progetto. Ebbene sì, oggi è una chicca, una chicca perché tratteremo di un video su Bitcoin, ovvero un exchange che tratta scambi OTC e scambi comunque swap e interazioni comunque all'interno dell'ecosistema di Bitcoin. La cosa interessante è che è un DEX che utilizza proprio questo progetto per fare degli swap semplicissimi, quindi non come Satoshi ma molto più tecnico dal punto di vista di interazione. Quindi abbiate pazienza perché è un pochettino complesso ma molto interessante per quello che può dare perché hanno già anche annunciato un rilascio di airdrop per coloro che utilizzeranno questo progetto in questa fase anticipata. Se queste tipologie di contenuti vi piacciono lasciate un bel like perché è davvero importante per me. Bene, quindi direi di passare a schermo e scoprire di quale progetto si tratta sulla rete Bitcoin. Benvenuti quindi criptoaffezionati su Runex. Abbiamo davanti un progetto davvero potenziale e davvero molto interessante per il rilascio di airdrop considerevoli perché stiamo parlando di una chain molto importante che è quella di Bitcoin anche se quando utilizzerete, se utilizzerete mai questo protocollo, vi farete un'idea diversa magari su Bitcoin per come agisce. E adesso andiamo a vedere. Prima di tutto, Runex che cos'è? Runex è, e lo vediamo anche da qua, sostanzialmente un exchange costruito su Bitcoin sul quale potremo andare a fare vari acquisti, vari scambi, ma è nativo di Bitcoin. E questa cosa è molto importante perché insomma le intenzioni e gli interessi comunque che ci sono dietro a questo diventano molto ampi, specialmente perché in questo caso hanno annunciato che ad aprile ci sarà il lancio e ci sarà appunto l'airdrop per chi utilizzerà Runex in questa fase iniziale. Per prima cosa, per prima cosa, attenzione, quello che noi dovremo fare e dovremo avere sarà il wallet di Unisat perché senza di questo non potremo partecipare a questo progetto, quindi non potremo utilizzare l'interazione. Si potrà decidere in realtà di avere o Ethereum o BTC anche se è consigliato da loro stessi utilizzare Bitcoin. Quindi in questo caso dovremo utilizzare rete Bitcoin e avere un quantitativo, in questo caso qua sono mi pare 160 dollari all'incirca per interagire all'interno di questo progetto. Perché appunto essendo nativo di questa rete ha più senso, dal punto loro ovviamente, ma noi seguiamo anche un po' questo suggerimento perché potrebbe essere molto più interessante. Intanto apro una piccola parentesi, potreste sentire ogni tanto delle notifiche Discord perché ne ho talmente tanti di canali che non so quali più mutare, alcuni me li perdo e non mi escono le notifiche. Comunque dovremo utilizzare Discord e lo tengo aperto proprio perché è importantissimo per questo progetto che adesso andremo a vedere. Allora, il first time setup di Runex è proprio la parte di Discord fondamentale, ovvero che dovremo andare a selezionare tutta la privacy settings di Runex e come dovremo fare in questo caso? Dovremo andare su Discord, andiamo su Runex, clicchiamo e andiamo in impostazioni privacy. Le fleghiamo tutte quante, una volta che ce le abbiamo facciamo fatto. Mossi su questo lato, siamo a posto, non dobbiamo fare nient'altro, ok? Quindi siamo a posto, quindi siamo ready per appunto cucinare in questo caso e dobbiamo ovviamente essere sicuri che il bot che ci scriverà sarà Runex hashtag 1233, ok? Questa è importantissima da sapere perché altrimenti saremo facili per avere di bot e scam. Successivamente ci sarà il managing funds. Il managing funds che cosa richiede? Prima di appunto partire dovremo andare sulla parte generale e cliccare Runex. Quindi copiamo questo e dovremo andare in view profile. In manage wallet potremo poi andare a depositare. Quello che dice loro la guida è che dovremmo usare fees alte. Il problema è che delle fees su BTC, vedrete, saranno già alte di loro. E attenzione, dovrete, lo ridico, utilizzare un ISAT wallet perché se utilizzerete un wallet di un qualsiasi exchange perderete i fondi. Non ve li valuteranno e andranno persi, ok? Mi raccomando, senza questo wallet non potrete fare ovviamente niente e perderete i vostri soldi. Quindi massima attenzione. Successivamente infatti loro dicono che saranno disponibili i supporti soltanto di Ethereum e BTC Mainnet. In questo caso sono identici perché praticamente gli spostamenti da Ethereum e BTC sono uguali. E come dice, qualsiasi fondo inviato da qualsiasi altra Mainnet ovviamente sarà perso. Ricordano e dicono anche che è raccomandato avere due fattori su Discord. Importantissimo anche per poi parteciparvi. Bene, quindi adesso noi possiamo andare dentro la chat di Runex. Quindi una volta dentro Runex andremo a, scusatemi ho sbagliato, general chat. Saremo qua, farete questo, Runex e invieremo, ok? Ok, quindi please send a DM to our bot chat. Ok, quindi andremo sul bot qua sopra, ok? 1, 2, 3, 3. E da qua andremo in mostro profilo. Andremo in invia messaggio e gli andremo a scrivere. Quindi facciamo Runex ed inviamo. In questo caso io ho sbagliato, dobbiamo fare check DM prima effettivamente. Quindi check DM, ok, verify success, ok. Quindi ci siamo, assicurato comunque che ci siamo, le DM e le receive da altre parti saranno ovviamente fraudolenti. In questo caso possiamo attivare Runex. Bene, da Runex noi abbiamo il search ID, view profile, create listing. Noi dobbiamo fare view profile. Una volta che noi abbiamo view profile, ok? Quindi ci fa vedere quanto abbiamo di Ethereum, quanto abbiamo di BTC, ok? E BTC insurance. Noi possiamo andare a fare il manage wallet. Perché se torniamo qua, deposit BTC, ok? Very high fees. Quindi sono, lo richiedono fees alte per accreditare. In realtà non dobbiamo fare il 3x, bastano delle fees dell'1,5 all'incirca. Possono andare benissimo. Bene, una volta che siamo qua facciamo manage wallet e manage wallet dovremo andare a depositare tramite deposit BTC. Bene, quindi una volta fatto deposit BTC dovremo andare a prendere il nostro address. Nel nostro address, eccolo qua, dovremo prendere questa sezione, tornare indietro e selezionare il deposit. Quindi ok, qua dice che, attenzione, dovrete usare un 3x current SATS, quindi un 3x di fees, quindi molto alte. Fate conto che solo per il spostamento sono 29 dollari per spostarle, quindi sono già abbastanza aggressive. Però ecco, adesso lo andremo a vedere. Quindi il wallet è giusto, F349, F349, perfetto. Quindi siamo in corretto. Quindi transaction created. Anzi, stiamo qua sopra. Bene, allora questo qua è il transaction created, quindi in 420 minuti. Quindi noi dovremo mandare i nostri BTC dal nostro wallet su questo wallet qua. Ok, quindi BC1QZ che finisce MJ e MGJ, ok? Quindi, step 2, 1 cent to confirm, copy and pass your transaction to finalize the process. Mi raccomando, questo è importantissimo. Quindi copiamolo, andiamo su Unisat, facciamo send, faccio send, faccio max, all'incirca. Qua dice 3 volte, ok? L'average invece, in realtà qua praticamente il custom va comunque benissimo perché dice 1.5. Si potrebbe fare anche un fast in realtà, però se facciamo next, quello che ci chiederà, eccolo qua, network fees. 4 volte 0, ok? Vediamo un po' 4 volte 0 cosa sarebbe. Giusto per fare un calcolo, avere 0.0053 sono 2.28, quindi in questo caso molto bene. Quindi andiamo in send, ok, MJ e MGJ, perfetto. Facciamo questo, dobbiamo rifare tutto sempre, ok, così, next, ok, network fee rate, sign and pay. Ok, payment sent, ok? Quindi quello che noi vedremo adesso è, dovremo aspettare 10 minuti per ricevere appunto i nostri, le nostre monete. Quindi done. E adesso aspettiamo, vediamo un po' view history, se ce lo fa vedere, no, non ce lo deve far vedere tanto qua. Quindi 1.56, molto basso in questo caso, e sono mandate, quindi già state inviate, MJ e MGJ. Quindi questo è tutto giusto. Adesso dobbiamo aspettare. Adesso copiamo la nostra transazione ID. Se noi andiamo qua sopra, questo è l'indirizzo, quindi questo qua adesso. Prima di portare avanti questa parte, vedete che qua dice non mandare fondi da Coinbase, Binance o altri exchange, ok? Altrimenti andremo a perderli e l'unica cosa è only from wallet your custody. Poi Bitcoin withdrawal fees saranno dedotti in base al network sostanzialmente, dalla Manpool. E quindi basta, quindi vi avvisano già anche da questa parte. Withdrawal, DTC, ok? Deve essere più D, e quindi siamo a posto. Ok, il TXID è questo che vediamo qua, ok? Questo qua che abbiamo messo, che fa riferimento appunto alla transazione. Bene, adesso come vedete abbiamo le quattro conferme. Prendiamo appunto il nostro transaction ID. Quando noi, andiamo qua, io adesso l'avevo provato, effettivamente pensavo fosse già tre. In verità l'avevo già messo a tre, ma mi ha contato, non so perché, due conferme. Infatti mi dava continuamente invalid input. E poi mi ha detto che è stato trovato, ma necessita di tre conferme. Quindi adesso ce ne sono quattro, ho voluto aspettare per sicurezza. Faccio confirm, inserisco. Ok, please wait for the DM. Transaction successfully. Quindi è avvenuto perfettamente. Quindi sono arrivati i balance. Infatti se noi torniamo adesso, ok, qua ce l'abbiamo, qua siamo a posto. Adesso se noi da qua facciamo lo stesso messaggio di prima. My address is correct, ok. Facciamo view profile. Ok, eccolo qua. Noi facciamo, eccolo qua, vediamo current balance 0.0041.7. E 41.7, ok? Questo è quello che dobbiamo fare fino ad adesso. E mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Dove vedere le tre conferme? Lo vedete qua, ok? All'interno del vostro wallet, se andate a vedere, quattro conferme. Quindi qua si trova la vostra conferma. Se aprite il vostro transaction ID, o comunque andate su mempool.space, cercate il vostro wallet e vedrete che l'unica operazione, se avete fatto solo un'operazione, la troverete ovviamente subito in questa posizione. Bene, adesso non è finito perché quello che dovremo andare a fare, in questo caso, come la parte iniziale, dovremo fare appunto runex, ok? Quindi ridigitare runex per ricominciare da capo, ok? E dobbiamo fare un create listing. Una volta che facciamo il create listing, noi dobbiamo andare a scegliere, prima di tutto, quale rete, quindi faremo BTC, e successivamente dovremo fare il receive. In questo caso dobbiamo decidere quale situazione, o comunque quale collezione andare a prendere, quindi comprare, utilizzare. In questo caso io, ad esempio, andrei su quelle più famose che sono i bitmap, che sono i Bitcoin Metaverse Land. In questo caso, eccolo qua, siamo comunque su rete BTC, bitmap l'abbiamo scelto come token, dobbiamo aprire un trade. Dobbiamo aprire un trade. Questo ci servirà per, appunto, andare a comprare, quindi creare delle movimentazioni all'interno. Quindi faremo open trade e andremo enter amount of BTC, do you want to pay? Quindi in questo caso, noi abbiamo detto che abbiamo 0,04, bene, io direi che qua, ovviamente non tutto, però magari open trade, facciamo 0,0,25 e enter amount of bitmap to receive. In questo caso, un bitmap, ok? Quindi noi vogliamo ricevere un bitmap e, eccolo qua, you ask one bitmap, you will receive a DM upon receiving offer. Allora, qua abbiamo adesso tre ore di tempo per trovare qualcuno che accetti questa offerta e ce lo venda. Una volta che lo troviamo, ci arriverà appunto un DM, sempre qua sotto, che conferma la nostra transazione, in questo caso. Successivamente che arriverà questo messaggio, dovremo andare a digitare nuovamente confirm, ok? Vediamo un po' se me lo dice. You don't have any pending deposit at the moment, ok? Però successivamente, una volta che arriva, dovremo scrivere questa cosa per vedere la conferma di quello che noi abbiamo. Una volta che abbiamo la conferma di questo, in realtà, noi ci potremo trovare tranquillamente qua, ok? E andremo a vedere se qua i nostri bitmap, perché qua in idiot swap, choose an offer, ok? Noi abbiamo adesso, in questo caso, 0025 per un bitmap, ok? Perché è connesso direttamente al nostro buon Discord, ok? Quindi qua, view guide, insomma, ci fa vedere direttamente. In questa parte è un pochettino più tecnica questa situazione, perché, diciamo, non è proprio facile. Però, con questi passaggi lenti, ce la si può fare se si vuole, ovviamente, partecipare. Se passano tre ore e non troviamo nessuno che ci compra, verrà annullata e dobbiamo rifare una nuova offerta e creare di fare più volume. In questo caso, io su questo wallet l'avevo utilizzato Vergine perché volevo cominciare da zero. Qua il Your Honor Rating è importante perché più lo avrete alto, ovviamente, maggiore saranno i vostri volumi. Questa è una cosa, ovviamente, importante perché più è alto, maggiore poi sarà l'Airdrop. C'è gente che addirittura ha movimentato 200 Bitcoin di volume, vabbè, sono cose, ovviamente, folli. Però questo è quello che ci serve ed è utile per poter accedere a questo nuovo Airdrop. Fatemi sapere che cosa avete fatto, se siete riusciti a farlo tutto, se l'avete fatto. E specialmente, che cosa ne pensate di tutto questo bellissimo situazione. Qua vi metto anche sotto nei commenti, anzi nel commento proprio del video, tutta la guida dove potete andare a vedere questa guida, quindi per vedere how to buy, how to sell. Quindi vedere, ecco, vedete, qua potete appunto acquistare e poi avete how to sell. Quindi how to sell anche qua potrete andare a fare la stessa, sostanzialmente, conclusione, la stessa movimentazione che abbiamo appena visto. In questo caso io preferirei movimentare per creare più volumi, così da arrivare ad aprile, ad avere una discreta comunque volume e prendersi comunque una parte di Airdrop molto interessante. Bene, credito afezionati, abbiamo visto questo progettino che secondo me è molto interessante e potenziale per quanto riguarda appunto delle rewards, come detto, perché confermate da loro stessi comunque su Twitter, comunque ufficiale, perciò questo inalza comunque le nostre aspettative, ma specialmente bisogna comunque creare del volume per avere un riconoscimento in base alle nostre attività. Se questo video vi è piaciuto e siete riusciti a fare tutto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi aggiornamenti e nuovi Airdrop.